leo porta le parti della fontana assembliamola insieme bambini e allora il serbatoio che contiene l'acqua mettiamo delle luci due quattro cinque la pompa che spinge l'acqua i tubi dove passa l'acqua con filtro perché non si intasi la base dove collocare le pietre il tubo per portare l'acqua in alto quattro pietre con tubi al centro una due tre e quattro vai ottimo robot le pietre intorno al bordo sono fantastiche bellissimo